Sonia l'abbiamo invitata proprio perché ne discutevamo anche ieri durante gli altri laboratori al sud e la consapevolezza in cucina è un argomento non molto presente nei discorsi di ogni giorno perché col fatto che crediamo che la cucina della nonna sia quella più genuina andiamo ancora avanti con questa credenza quindi non valutiamo che qui sono gli ingredienti quelli che fanno la differenza quindi abbiamo deciso di invitare con i ragazzi anche di Tournel Sud proprio Sonia perché il suo blog è in Italia probabilmente quello che più riesce a portare a contatto con in maniera semplice e anche spiegato in maniera molto facile il tema della consapevolezza a portata di tutti oggi appunto ci darei qualche dritta su come cambiare le nostre abitudini alimentari e vi invito a seguire questa cosa sia in presenza che in streaming e utilizzare eventualmente l'hashtag EcoFood per qualsiasi tipo di interazione e considerazione ok allora mi ha presentato Daniele mi chiamo Sonia in arte sul sito Izen e ho cominciato a scrivere a interessarmi di alimentazione una quindicina d'anni fa e poi è nato il blog inizialmente con la pasta madre e comunque con autoproduzione diciamo quello che facevo soprattutto e diciamo che io ho cominciato a interessarmi di alimentazione consapevole o comunque di alimentazione sana perché ero una persona che avevo spesso problemi di salute e sono stata dopo tante volte tanti medici che frequentavo allopatici a un certo punto ho cominciato a curarmi con l'alimentazione con dei dottori che si occupano di bioterapia nutrizionale e i problemi che avevo che erano anche abbastanza seri come calcoli renali, colite croniche eccetera eccetera problemi per cui poi alla fine non uscivo neanche più di casa in un paio di mesi praticamente li ho risolti quasi completamente e quando è successo questo ho capito che sarebbe stato importante diciamo che inizialmente lo facevo spontaneamente di parlare con la gente di quello che era successo poi io sono napoletana quindi la napoletanità mi porta a condividere poi ho cominciato a parlarne un pochino anche sul blog perché è nato il blog e ovviamente parlavo anche delle mie esperienze io poi oltre a curarmi con la bioterapia nutrizionale che curano tutto col cibo o comunque supportano anche malattie molto importanti col cibo mi ero cominciata a avvicinare anche al biologico che allora era ancora diciamo un biologico serio diciamo la parola biologico aveva ancora un significato cosa che adesso ha un po' perso da un certo punto di vista e in effetti sul blog poi ho avuto subito tantissime persone che erano interessate a questo argomento purtroppo perché anche mi sono resa conto che tantissime persone venivano perché non stavano bene in pratica molte persone arrivavano sul pasto nudo perché avevano dei piccoli o grandi problemi di salute e il fatto di poterli risolvere con il cibo il fatto di poter risolvere una febbre o un'influenza con una tisana di aglio e limone oppure un mal di gola con uno sciroppo di cipolla in un certo senso oltre a diciamo essere un rimedio economico a cui tutti potevano accedere dà anche la sensazione di avere in mano la propria salute invece di delegarla diciamo di dover delegare al medico di turno che magari non c'è o non si trova oppure al medico della ASL o comunque medicinali che poi sono gustosi e mi hanno pagati e che non risolvono completamente la situazione normalmente spingono il sintomo quindi insomma è nato questo sito poi ha avuto tanto successo perché ci sono state tantissime visite e dopo abbiamo pensato di mettere alcune ricette su un libro ed è nato questo che è il libro che praticamente è uscito a ottobre dell'anno scorso il libro in realtà è un po' è un pretesto per parlare le ricette sono un pretesto per parlare di alimentazione consapevole perché dalle ricette si parte per parlare di consapevolezza alimentare poi adesso dopo vi leggerò anche alcuni spunti dal libro per farvi capire quello che intendo e dalla consapevolezza alimentare si passa anche poi ad altri tipi di consapevolezza noi adesso non siamo qui per parlare di questo però io sono dell'idea che quando si comincia a leggere le etichette del cibo a leggere le etichette di ciò che si compra a farsi determinate domande a chiedersi che cosa si sta mangiando poi dopo questa cosa si espande anche agli altri settori della propria vita e ci si chiede tanto di tutto il resto e che succede? che si recupera una certa, come si può dire un'indipendenza di se stessi che fino adesso che per due generazioni ci è stata sfilata perché che cosa è successo? io inizialmente pensavo che fossero solamente i nostri genitori ad essere poco consapevoli ma poi mi sono resa conto che anche i nostri nonni abbiamo perso due generazioni di sapere alimentare e quindi anche curativo perché poi alla fine prima ci si curava con gli alimenti le donne erano proprio le persone che poi tra l'altro erano delegate a curare erano delle curatrici e dopo il libro è nato poi alla fine dal libro e dal sito e da tutto quello che poi si è creato attorno al pasto nudo perché sta diventando una cosa molto grossa è nata un'associazione a giugno non profit per il consumo consapevole e questa associazione praticamente ha come obiettivi soprattutto due che mi sono molto cari perché uno è praticamente portare le persone direttamente ai piccoli produttori consapevoli di cibo produttori sia diciamo di come si dice sia coltivatori che allevatori e e portare le persone diciamo meno abbienti ai piccoli produttori saltando la grande distribuzione quindi in modo che se lo possano permettere perché che cos'è che soprattutto mi dicono quando io parlo di cibo consapevole dicono parli facile ma io il mio budget non mi permette di comprare il cibo biologico che da natura si costa o comunque dai supermercati comunque da tutti i supermercati giustamente che sono degli intermediari le grandi distribuzioni biologiche sono molto costose come è molto costoso secondo me il cibo anche dei supermercati normali perché ci sono tante intermediazioni quindi che cosa stiamo facendo stiamo facendo uno sforzo per portare le persone direttamente ai produttori consapevoli e un po' ci stiamo riuscendo perché praticamente stiamo mappando un pochino il territorio ovviamente io mi trovo come associazione a Formello vicino Roma al nord di Roma verso Viterbo e in pratica soprattutto molti li stiamo vedendo anche lì attorno ma comunque in tutta Italia e sono cose che poi alla fine stanno prescindendo da me perché in pratica arrivano persone che mi telefonano loro o che mi chiamano che vogliono stare sul pasto nudo diciamo il pasto nudo è un po' viaggia da solo io sono un po' lo strumento del pasto nudo ecco questo questa cosa ve l'ho detta per presentarvi diciamo chi sono e che cosa faccio e quindi è un'introduzione ultimo punto dell'introduzione vi prego qualsiasi cosa avete da chiedere di domandare di intervenire mi facilitate anche a me e mi fa piacere rispondere alle domande perché ovviamente ci sono tante cose a cui io posso non pensare e che invece possono essere dei dubbi piccoli o grandi che invece sono importanti da risolvere che a volte basta risolvere delle piccole cose di base e si arriva a cose anche grandi come sono tantissime persone per esempio che si stanno avvicinando alla consapevolezza invece che per motivi di salute per motivi per esempio che si mettono a fare il pane e allora fai il pane con lievito di birra poi dopo passi a farlo con la pasta madre perché scopri la pasta madre e ti chiedi perché allora vai a finire alle farine che utilizzi e la forza delle farine e il tipo di farine insomma alla fine si scivola nel tunnel della consapevolezza e non se ne esce più cosa molto positiva secondo me perché è un virus da cui sarebbe meglio non guarire mai allora che cos'è la consapevolezza alimentare che cosa intendiamo per consapevolezza alimentare in pratica quando io ho creato il blog l'ho subito chiamato diciamo cucina consapevole perché il biologico già vedevo che stava cominciando un pochino a perdere di significato diciamo veniva chiamato biologico un po' tutto anche cose che poi tra l'altro poi il biologico è quello la sfumatura è diversa perché il biologico o il biodinamico che dir si voglia sono cose che sono cioè sono praticamente alimenti che sono tali perché c'è una certificazione che li certifica come tali ovviamente chi certifica l'ente certificatore so che ieri c'è stata una riunione proprio degli enti certificatori bisogna vedere poi le maglie dell'ente certificatore quanto sono strette e quanto sono larghe per legge quanto devono come devono essere fatte le certificazioni e soprattutto anche chi certifica l'ente certificatore perché spesso la gente il prodotto biologico comunque è meglio di quello convenzionale dal punto di vista della salute però è possibile che ci siano delle cose che sfuggono ai controlli o che comunque i controlli non siano fatti come devono essere fatti questo è normale però da qui ovviamente poi si passa sempre a dire tutto il biologico fa schifo tutto il biologico è una truffa ovviamente non è così come tutte le generalizzazioni allora io che ho fatto ho parlato di cucina consapevole perché in realtà parlando di consapevolezza noi parliamo di qualcosa che viene da noi dal basso perché penso che la cosa più importante in assoluto in questo momento storico sia non smettere di farci arrivare le cose in testa dall'alto aspettarci che ci cadano in testa quindi la certificazione la sicurezza da parte di un'altra persona e assicurarci noi stessi che cosa stiamo facendo cosa stiamo mangiando di che cosa ci stiamo interessando solo così noi possiamo sapere veramente cosa mangiamo e solo così possiamo riprendere in mano le redini di tante cose che noi abbiamo perso perché ci hanno in un certo senso fatto perdere perché ovviamente per l'industria adesso non voglio fare la complottista ma comunque per l'industria è ovvio che è molto più comodo se noi ci rivolgiamo a loro per tutto per curarci per nutrirci ci fidiamo di quello che ci dicono purtroppo diciamo avrebbe anche potuto essere così utopicamente ma è una cosa impossibile da realizzare perché l'industria ha interessi economici che noi non abbiamo su noi stessi quindi le uniche persone che possono decidere veramente che cosa è meglio per noi siamo noi stessi e se è un pochino più diciamo complicato inizialmente perché ovviamente ci prendiamo un impegno soprattutto di togliere la testa da sotto la sabbia che è abbastanza scomodo e però diventa tutto molto più facile man mano che si va avanti perché è solamente un fatto di cambiare abitudine non è una questione di difficoltà e in quel modo si si insomma si esce pure da questa da questa cappa di bisogno dell'industria e delle case farmaceutiche dei marchi che ci hanno imposto diciamo in questi anni adesso per spiegarvi questa cosa vi leggo una parte dell'introduzione del libro perché lo spiego molto meglio sono molto più brava diciamo a scrivere che a parlare sicuramente quindi in pratica che cos'è la consapevolezza è più un modo di porsi di pensare e applicato al cibo il cibo cioè alla fine diventa comprare il cibo è anche a parte un gesto della nostra salute ma anche un gesto politico in un certo senso perché che cosa succede che noi acquistando qualcosa diciamo all'industria ne vogliamo ne voglia un altro se io compro il filadelfia gli dico ne voglia un altro però che cosa vuol dire che io sto sostenendo quell'industria che poi fa delle cose che non vanno bene sotto tantissimi punti di vista adesso non voglio fare nomi perché ovviamente sarebbe anche controproducente prima o poi mi mettono in detto direttamente agli arresti però diciamo non è che ce n'è una meglio dell'altra sono tutte quante più o meno attente ai propri interessi più sono grosse e più gli interessi sono grossi e più ovviamente è rischioso mangiare cose che secondo me vengono da quel tipo di industria adesso vi leggo un attimo l'introduzione del libro che spiega praticamente cosa intendo per consapevolezza così allora dunque salto alla prima parte più scavavo più mi rendevo conto di quanta cultura fosse sepolta sotto l'alimentazione da decenni di quella che io non so definire se non come pura follia togliere alle persone alle donne alle mamme il potere di essere indipendenti di curare da sole parlo al femminile perché per molto tempo queste sono state occupazioni femminili ma adesso le cose stanno fortunatamente cambiando i malanni poco importanti come il 90% lo sono con il cibo e le piante sottrarre loro l'esperienza acquisita nell'arco di generazioni sostituire a tutto questo prima di tutto la paura nelle conserve c'è il botulino nell'uovo crudo c'è la salmonella e aggiungo nel latte crudo è pericolosissimo l'abitudine e le cose fatte di fretta la superficialità la pasticca che toglie il sintomo e mette progressivamente a riposo il sistema immunitario rendendolo inefficiente e confuso fino ad attaccare se stesso abbiamo perso completamente di vista il contatto necessario con la parte terrena abbiamo mangiato ortaggi e frutti rinfrescanti quando faceva freddo e consumato nella stagione calda grassi inutili provenienti da animali malati e vissuti atrocemente non capiamo come mai la terra stia perdendo la sua fertilità sapevamo che le cose non andavano ma avevamo la percezione che tutto fosse lontano risolvibile che non ci fosse nulla che potessimo fare personalmente che fossero altri a dover risolvere la situazione perché in realtà questo modo di pensare è pericoloso anche perché appunto ci toglie noi ci viene in mente il nostro atteggiamento è qualcuno lo risolve questo problema mentre il nostro atteggiamento deve essere lo risolvo io fin quando è piccolo il problema è inutile aspettare diventa enorme e poi dopo ci cade in testa qualcosa di estremamente importante ci è stato sottratto subdonamente lentamente nel corso degli anni siamo stati distratti ci hanno fatto guardare da un'altra parte come si fa con i bambini siamo stati confusi addormentati non riesco a credere che tutto questo non sia stato fatto apposta almeno in parte credo piuttosto che per una multinazionale per una casa farmaceutica per l'industria il nostro sonno sia molto comodo anzi l'unico modo per sopravvivere che nessuno di noi continuerebbe sulla strada che abbiamo percorso fino adesso se avesse chiaro il quadro della situazione non so se siamo ancora in tempo so che però adesso che mi sono svegliata non ho alcuna intenzione di nascondermi e di stare con le mani in mano voglio provarci credo che adesso che sappiamo abbiamo il dovere di essere consapevoli se non per un senso etico o almeno per i nostri figli cosa c'entra tutto questo un libro di ricette? ve ne accorgerete provando a cucinare fare è importante insegna a non aver paura di provare a scegliere a creare comprare cibo è un gesto politico nel senso della polis come comprare qualsiasi altra cosa ma in senso più atavico più profondo più basilare e cucinare non è un gesto di minore importanza pensate a quanto è ovvio se fossimo in grado di preparare cibo molto buono e migliore di quello che possiamo trovare in giro in poco tempo e spendendo meno di quello che spendiamo nei supermercati i grandi produttori e distributori dovrebbero chiudere battente oppure ripensare i loro criteri di produzione sostituendo al risparmio a tutti i costi il buon senso la qualità e il rispetto delle risorse in questo particolare momento storico abbiamo la possibilità di riprendere in mano le redini della nostra vita e possiamo farlo cominciando dalle nostre scelte alimentari eliminando tutto il superfluo tornando alle radici della nostra forte cultura alimentare e mediandola con la tecnologia che si è utilizzata nel modo giusto e uno strumento fenomenale ok vabbè e in questo libro cercherò di darvi qualche dritta per cominciare a farlo il resto soprattutto la volontà ce la dovrete mettere voi che cosa abbiamo detto in pratica la cosa più importante che abbiamo detto è che dobbiamo riprendere in mano le redini nella nostra vita e questo non è necessario farlo diciamo rinunciando a quello che abbiamo nel senso noi siamo assolutamente come passo nudo per la decrescita ma la decrescita non vuol dire che bisogna tornare indietro al contadino triste alla vita diciamo che facevano i nostri bisnonni perché noi abbiamo comunque tantissimi strumenti che loro non avevano abbiamo la tecnologia abbiamo tantissime scoperte anche proprio sanitarie molto importanti come lavarsi le mani quando si fanno le cose quando ci si cura eccetera eccetera quindi noi dobbiamo semplicemente fare un passo indietro perdendo determinate cose che non ci servono e per farne poi due avanti forti di quello che abbiamo quindi io sinceramente sul passo nudo ci sono tanti tanti lettori ma tantissimi sono legati alla terra stranamente la classe colta adesso che viene che si informa e che legge è la classe dei contadini o dei figli di contadini o di allevatori gente che comunque ha il contatto con la terra io personalmente sono figlia di un avvocato e vi posso dire che avvocati medici e comunque insomma persone che hanno una certa cultura accademica purtroppo hanno perso completamente invece la cultura alimentare la cultura della terra che è quella che è in assoluto più importante quello che è cambiato ovviamente che cos'è è la rete noi abbiamo quello che ci ha veramente cambiato le cose in questo momento è sicuramente internet perché internet a me è uno strumento che è in grado di mettere in contatto le persone tra di loro anarchicamente in un certo senso tutti chiunque vuole mettere qualcosa in linea lo può fare grazie al cielo e quindi non dobbiamo più subire diciamo le informazioni ma le possiamo creare e usufruire di quelle degli altri ovviamente su internet ci sono anche un sacco di sciocchezze ma come nel mondo c'è di tutto bisogna saper discernere diciamo in Italia noi abbiamo avuto la rete da quando dal 92 al 93 più o meno ed è da lì cioè non è tanto sono pochi anni e da lì però diciamo che l'esplosione è stata più che altro con facebook quanto può essere stato due tre anni fa quattro anni fa è una cosa giovanissima e è molto importante quindi utilizzare questo strumento nel modo migliore possibile e il modo migliore possibile qual è? Cambiare la nostra mentalità le ultime io adesso me la prendo un po' con le ultime due generazioni ma non è che sia colpa delle ultime due generazioni siamo stati portati ad arrivare a questo però diciamo che le ultime due generazioni sono state portate a chiudersi molto in se stesse a diventare individualiste noi eravamo diciamo noi siamo nasciamo diciamo proprio come persone portate alla condivisione con gli altri per dire quando c'erano i quando si quando si costitivavano i campi di grano si doveva mietere il grano si chiamavano si chiamava il resto del paese che aiutava a mietere il grano e poi in cambio magari si andava a aiutare a mongere le mucche insomma c'era una collaborazione tra tutti quanti tra le persone che si conoscevano anche in piccolo per esempio nelle case quando nasceva un bambino c'erano delle comunità di donne che aiutavano le donne a crescere i bambini per dire io mi sono intestardita a allattare la mia bambina un anno e otto mesi dopo ero morta perché perché l'ho fatto nel modo più difficile possibile perché non avevo la comunità di donne che mi supportava una volta queste cose si facevano mentre la mamma diciamo allattava l'altra magari e dopo riposava e le altre tenevano il bambino e questo ci è stato tolto non ce l'abbiamo adesso dobbiamo ritrovarlo e un po' lo stiamo ritrovando io vedo attraverso la rete io ho tantissime informazioni quasi tutte le informazioni che poi ho messo a disposizione metto a disposizione sul blog e sul libro sono informazioni che prendo sulla rete se voi guardate le ricette sul libro tutte quasi tutte le ricette siccome io non sono assolutamente un genio in cucina sono ricette che praticamente io ho preso e cito ovviamente nel blog da dove sono state prese con il link che vuol dire che creo il collegamento con l'altra persona e le elaboro però che cosa vuol dire la cosa bella è proprio questa che tu metti a disposizione la cultura in modo che la gente possa elaborarla infatti anche se per esempio prendono delle foto dal mio blog o prendono dei contenuti a me fa assolutamente piacere quello che mi dà fastidio è se lo prendono lo prende Repubblica o se lo prende insomma realtà che hanno già molti soldi e che non hanno assolutamente bisogno di prenderle da noi che non ce li abbiamo quindi in pratica io vi voglio segnare un po' di cose sul visto che sono un grafico ve le disegno così ce l'avete e vi visualizzate anche che quali sono i punti importanti del discorso quindi consapevolezza consapevolezza primo punto fare rete tra di noi grazie alla rete quindi utilizzarla nel modo giusto con l'educazione eccetera eccetera perché voi sapete che c'è una netiquette e spesso invece le persone che poi vanno su internet hanno il problema che si sbragano moltissimo perché quando non vedi una persona tendi un po' a essere e i punti da tenere presenti sono molto importante fate caso analizzate le vostre le vostre mamme le vostre nonne fate caso guardate che differenza si sta cominciando a creare adesso con la rete rispetto alle ultime due generazioni quindi differenza rispetto alle ultime due generazioni io questa cosa per esempio me ne sono resa conto quando ho fatto gli struffoli per dirvi perché il cibo può portare ad altri tipi di consapevolezza in pratica che succede ho chiesto a mia madre io sono napoletana ho chiesto a mia madre non so se si sente dalla cadenza ho chiesto a mia madre la ricetta degli struffoli mi ha detto amore li abbiamo sempre comprati gli struffoli ho detto ah vabbè ma la nonna li avrà fatti in casa no anche lei li comprava ecco cioè due generazioni perse ma com'è possibile sì dimmi allora direi le generazioni dagli anni 50 in poi perché che è successo che negli anni 50 c'è stata la rivoluzione industriale l'industrializzazione e poi è successo che praticamente c'è stata anche la c'è stato ci sono stati dei problemi anche con le farine che adesso dopo vi racconterò con i grani e comunque l'industria ha cominciato a a far passare l'informazione che si può fare tutto in modo più facile più veloce in modo che ci resta più tempo per fare quello che vogliamo che poi che cos'è quello che vogliamo fare le cose che ci piace fare che è quello che ci hanno tolto è un circolo un serpente che si morde la coda quindi in pratica diciamo due generazioni quindi scriviamo anni 50 quindi differenza rispetto a tutte le generazioni e molto importante fare comunità quindi praticamente riscoprire la comunità quindi la non contrapposizione che è invece quello che a cui ci hanno portato diciamo ci ha portato l'industria una certa contrapposizione tra di noi e ok quindi questo per quanto riguarda la consapevolezza che cosa è successo quindi con facebook che sta succedendo diciamo che noi siamo un po' strozzati dalle dalle follie della legge della legge diciamo dalle maglie della legge dalle maglie che ci mette la legge alimentarmente per esempio per dirvi ci sono determinati tipi ecco noi in Italia abbiamo per esempio i formaggi abbiamo dei meravigliosi avevamo soprattutto ma abbiamo ancora dei meravigliosi formaggi dei meravigliosi produttori di formaggi dei piccoli produttori che succede che praticamente questi formaggi moltissimi di questi formaggi avevano ovviamente erano molto diversi tra di loro avevano la particolarità dei formaggi e proprio la loro la personalità che hanno questa personalità l'acquisivano come diciamo con gli usi e i costumi della zona e del momento ad esempio i formaggi venivano fatti nelle fascelle di Vimini e i fermenti per chi fa il pane lo sa i fermenti ovviamente rimanevano in parte nella fascella di Vimini addirittura appunto che quasi il formaggio si poteva fare senza mettere i fermenti perché e comunque mantenevano una personalità che gli dava quella particolarità adesso diciamo per legge credo europea adesso non vi voglio non ne ho la sicurezza di questo ma penso che più o meno quasi tutte le leggi più che ci strozzano di più sono quelle che vengono ovviamente all'Europa per uniformare le fascelle devono essere di plastica ma moltissimi produttori si lamentano nelle fascelle plastiche al formaggio che viene più come prima i fili adesso mi sembra di ricordare pure che c'è proprio un tipo di caciocavallo che si matura su dei fili su delle corde di spago pure quelli anche quelli se le corde diventano di nylon non succede più niente chi fa il pane lo sa perché in pratica io la prima volta che ho provato a fare la pasta madre non mi è venuto niente perché la cucina era troppo pulita i batteri sono nostri amici e questo lo dobbiamo ecco questo è molto importante dopo lo scriviamo no scriviamo i batteri sono nostri amici ci metto pure un cuore così si capisce di più allora non ci sono i batteri cattivi ci sono squilibri tra batteri quindi i batteri vanno bene ecco un'altra cosa che ci hanno tolto è stata questa togliete tutti i batteri togliete gli acari togliete distruggete la casa deve essere in ospedale certo certo non serve basta sciacquarlo sì anche perché poi bisogna avere il detersivo che si usa ma stessa l'acqua che poi utilizziamo è piena di cloro e quindi adesso non dico che uno si è bere l'acqua del fiume sotto casa soprattutto perché però ecco saperlo uno poi se lo può pure bere l'acqua del rubinetto però bisogna sapere che nell'acqua del rubinetto c'è il cloro e il cloro comunque crea i cloro derivati poi dopo ve lo racconto il cloro crea i cloro derivati che sono cancerogeni che sono pericolosi quindi praticamente anche in cottura nell'acqua ci sono i metalli quindi però ecco se uno cioè nel senso io sono giunta comunque a questa conclusione perché il pasto nudo si occupa di cibo e salute e poi è diventato anche diciamo etica in un certo senso etica alimentare in pratica non è che il cibo è l'unica cosa importante per non ammalarci secondo me ce ne sono tre o quattro diciamo c'è l'alimentazione poi abbiamo l'esercizio fisico inquinamento e poi quello che in assoluto è più importante è la felicità cioè se non siete felici e equilibrati e sereni potete mangiare bene quanto volete voi potete fare l'esercizio fisico potete stare in un posto incontaminato vi ammalate lo stesso esatto invece quello che non aiuta la felicità che cos'è è un capitolo a parte comunque quello che non aiuta la felicità a parte che qui Italia sarà piena di gente infelice secondo me altrimenti non sarebbe così ma quello che aiuta la felicità che cos'è cioè quello che non aiuta la felicità che cos'è il preoccupamento la paura ok quindi che cosa ci hanno inculcato in questi anni la paura dei batteri la paura delle malattie la paura di quello che mangiamo la paura di quello che pensiamo perché se pensiamo troppo diversamente dagli altri è pericoloso non siamo e attraverso vi dico delle cose pratiche come per esempio il latte crudo il latte crudo ci hanno detto no no pericolosissimo il latte crudo che cos'era quella malattia cioè che addirittura a parte vabbè una semplice diarrea che potrebbe portare un latte magari che si è che ha avuto qualche contaminazione durante il trasporto perché non è che è contaminato dalla mucca ma addirittura la morte di bambini con sindrome emorragiche terrificanti che qual è la verità che il latte crudo prima di tutto bisogna saperlo gestire non è che si può trattare come il latte di supermercato che uno solo porta in giro per mezza giornata il 20 agosto nella macchina uno lo prende refrigerato nella borsa refrigerata e se lo porta a casa ma comunque se si vuole stare tranquilli basta che il latte crudo portarlo a 80 gradi e i batteri diciamo evidenti eventuali proliferazioni di batteri ma comunque pastorezzandolo si perdono tantissime proprietà del latte quindi diciamo per un bambino probabilmente se avete un bambino piccolo sicuramente portarlo per un minuto a 80 gradi è una buona scelta ma per voi quello che rischiate è al massimo una diarrea insomma ma certo certo ma il problema il problema qual è praticamente che il latte come viene munto no allora il primo problema è la mucca come sta perché non c'hanno problemi quindi apposto ma diciamo che il problema delle cozze crude non sono tante batteri secondo me attualmente comunque in pratica che succede che vabbè a parte sì che comunque il latte crudo perde tantissime proprietà cioè il latte pastorizzato perde tantissime proprietà ma addirittura pare che proprio il latte pastorizzato porti le intolleranze perché sì cioè uno può decidere di non berlo proprio oppure berlo allora dico ma come facciamo a bere il latte a diciamo a supportare tutto il bisogno di latte che c'è al mondo se non facciamo così con l'industria diminuiamo il bisogno di latte che c'è al mondo non è che noi dobbiamo bere il latte come i vitelli tutti i giorni un litro al giorno si beve moderatamente uno si compra una bottiglia a settimana e si beve oppure se ne compra due per fare il yogurt perché poi con l'autoproduzione uno magari compra più materia prima e fa tutto il resto quindi questa è una delle paure più terrificanti e tra l'altro che poi paradossalmente la legge ha ha cercato inizialmente proprio di toglierlo da mezzo il latte crudo ma poi ci sono state talmente tante proteste da parte della gente che alla fine si sono accontentati di mettere sulle macchinette di distribuzione del latte crudo un cartellino che dice il latte va bollito prima che poi a quel punto diventa responsabilità della gente bollirlo e poi dipende perché ovviamente può succedere che se il contadino c'è il contadino intelligente e il contadino è meno intelligente oppure più più ignorante o più che posso dire meno ordinato e quindi siccome quando si monge diciamo è possibile che ci dove si monge è vicino anche a dove la mucca fa la cacca quindi può finire qualche battito dipende da quello che certo il yogurt tra l'altro è nato proprio dal latte che si è naciduto da solo io tra l'altro prendo un latte non lo dico per fare pubblicità perché a me importa proprio perché poi tra l'altro purtroppo è un latte tedesco perché in Italia non si trova questo tipo di latte prendo un latte biodinamico che non è omogeneizzato oltre a essere leggermente pastorizzato e la cosa bella è che questo latte in bottiglia di vetro che sopra quindi ci faccio la yogurt anche e adesso ve lo dico ve lo scrivo purtroppo questo latte lo trovo solamente dai centri di natura sì perché che succede che lo distribuisce mi pare la K la K mi pare lo distribuisce e in pratica però io penso che la situazione adesso cambierà piano piano perché praticamente voi potete andare direttamente sul sito accedere al sito chiamare e chiedere dove lo trovo questo latte e loro che cosa fanno sono però ecco è brutto che ci sia solamente questo di questa qualità comunque con questo latte ci faccio tutto e allora comunque questa stavo dicendo se non mi disperdo questa era una delle paure che ci che ci inculcano poi l'uovo con la salmonella che per esempio io parlando con una dottoressa tedesca una di queste sabine che scrive sul sito mi diceva mi diceva che la salmonella praticamente è una cosa che non è una cosa così terribile nel senso diventa terribile se quando hai la salmonella prendi l'antibiotico perché ti distrugge se ho capito bene come mi ha detto lei io non sono un medico giustamente però praticamente rompe dei legami per cui alla fine questa salmonella invade tutto quanto il corpo mentre invece lei mi raccontava che lei la curava la faceva curare lei è un medico chirurgo laureato e poi specializzato in medicina alternativa comunque in pratica lei la curava con l'argilla quindi insomma conosco persone che c'è una mia amica che mi ha detto che è stata all'ospedale con la salmonella ma probabilmente perché l'hanno curata male dipende da come si cura ma e questo per quanto riguarda l'uovo crudo e questa paura terrificante dell'uovo crudo per cui non si fa manco il tiramisù con l'uovo crudo perché mia figlia prende l'uovo sbattuto spessissimo l'uovo sbattuto insomma ci sono tante poi di paure così che ci creano la paura del batterio la paura e ovviamente come possiamo combattere questo paura solamente conoscendo molto bene l'argomento per dire io accanto a scuola di mia figlia andavo di fretta stavo cercando della verdura fresca bio allora mi dissero una mamma della scuola mi disse guarda c'è qua dietro la scuola era a Roma un signore che c'ha anche qualcosa di bio e io di corsa sono andata lì e gli ho chiesto senta qual è la roba bio che posso comprare mi fa e beh sono rimasti solamente questi capolfiori e queste questi capolfiori questa insalata una insalata tutta muscia e i capolfiori avevano una muffa sopra cioè lo scuro no? ho detto scusi ma questi sono una muffa se no ma il bio è così il bio è brutto però se io non avessi saputo che quella era muffa gli avrei creduto perciò dico l'unica arma che noi abbiamo è la consapevolezza cioè è la la conoscenza delle cose che le nostre bisnonne avevano benissimo perché ce l'avevano? perché loro avevano il contatto con la terra loro la coltivavano e quindi lo sapevano benissimo che sapevano benissimo che quando le mele sono farinose perché sono state in frigo o perché hanno preso freddo perché cioè per loro era quelle che avevano preso che avevano preso freddo per noi sono quelle che l'hanno tenuta nelle celle frigo e quindi non sanno di niente e per quello cioè se non sappiamo queste cose non ci possiamo difendere ma soprattutto non possiamo non andiamo da nessuna parte perché io posso entrare nel supermercato biologico buttare nel carrello tutto quello biologico ma posso aver comprato qualsiasi cosa non ho cambiato niente nella mia vita diciamo e devo dire la verità all'inizio è difficile ma sicuramente incamminarsi sulla strada della consapevolezza incrementa la felicità non so non so perché ma lo fa voi provate a cominciare da piccole cose che ne so un giorno decidete per una settimana non mangio niente di conservato niente scatolette niente di niente di conservato già quello vi cambia tantissimo la vita vi leggo una cosa che praticamente ho letto ieri su facebook in uno di questi gruppi che frequento di pazzi scatenati sull'alimentazione che sul fatto del formaggio una testimonianza di un signore che diceva per spiegarvi che praticamente che cosa vuol dire questa cosa del gusto anche nostro che è cambiato completamente noi siamo abituati c'è per esempio il bambino della sorella di mio marito mio nipotino in pratica mia cognata però da dargli il pollo quello ruspante non se lo mangia perché il sapore non è quello che lui conosce ed è duro secondo loro ma non si rendono conto che a parte che noi non siamo più abituati a masticare questo è tutto un discorso che Sabine sta facendo un seminario solo su questo Sabine questa dottoressa di cui vi dicevo anche Matteo Giannattasio ma poi proprio il sapore gli fa strano e sono due generazioni che noi non abbiamo più questo noi non sappiamo più che cosa è buono il pane cioè per noi il pane deve essere una cosa morbida e spugnosa ma il pane morbido e spugnoso è un pane fatto con una farina sbagliata che ci fa male ci fa salire il picco glicemico ci provoca la sindrome metabolica però è pieno di zuccheri non nutre in realtà però io e io poi mangiavo il pane napoletano quello il palatone napoletano che mi piaceva un casino mi sono reso conto che quello cioè io non posso risalire alla mia infanzia perché la mia infanzia già mangiavo male a parte lo spunti e il latte condensato cioè della Nestret eccetera ma e neanche diciamo quella di mia madre perché pure mia madre mangiava il palatone con la farina già cambiata e già con il lievito di birra è super lievitato quindi non abbiamo lui praticamente diceva questo questo era un gruppo di formaggi di di formaggi diciamo di gente che parla solo di formaggio perché c'è un gruppo di formaggi un gruppo di pastori in pratica questo diceva qualche anno fa ero presidente di una vicepresidente di una cooperativa di produttori ho cominciato a far selezionare il latte dei circa 300 soci questo voleva migliorare le cose no? ho preso il latte dei soci che utilizzavano pascolo nella dieta delle loro vacche perché la differenza tra la mucca che sta bene e la mucca che sta male o comunque che viene trattata male è che cosa mangia no? se mangia il pascolo di prati polifiti cioè con un sacco di erbe diverse in altura in alpeggio è una mucca che restituisce un latte che è meraviglioso pieno di sapori di tutti i tipi una mucca che viene tenuta dentro con le gonna tagliate dentro al buio non vede mai la luce del sole antibiotici ormoni eccetera ovviamente di che posso avere il latte non sa di niente quando va bene quindi ho preso il latte dei soci che utilizzavano pascolo nella dieta delle loro vacche e ho fatto produrre al caseificio della cooperativa come conseguenza ho perso una buona fetta di mercato nelle città più grandi i consumatori non hanno accettato il prodotto perché era giallo e sapeva di latte vedete il giallo era il beta carotene che stava nell'erba e sapeva di latte ma mi volete dare un formaggio che sta di latte ma che schifo questo gli dava fastidio al sapore del latte volevano le provolette pallide in sapori come quelle della concorrenza che le produce con la cagliata estera cioè perché loro praticamente era cagliata congelata che viene da fuori la stessa cosa per le gelaterie usano latte in polvere addensanti ai romi forniti da colossi internazionali a prezzi strabilianti quando lui ha provato a proporre alle gelaterie di usare il latte non omogenizzato non ha avuto nessun risultato e la gente lo trovava disgustoso pesante grasso come posso dire io per esempio il latte lo compro solamente intero fresco già il latte scremato mi dà fastidio perché vuol dire che è stato in qualche modo manipolato la cosa migliore è sempre mangiare gli alimenti più possibile come sono come vengono offerti dalla natura quindi questo una paura soprattutto certo ciao sono Mimmo con 4 anni sinizio di gale cancro e anche vorrei fare un martedì e sono 3 anni che mangio consapevole infatti questo pensiero credo possa essere un pensiero tendenzialmente rivoluzionario nel senso positivo cioè perché come tu hai detto si parte dalla limitazione ma si estende quindi il tuo punto di vista il nostro punto di vista nei confronti di questo atteggiamento che ha la gente nei confronti dei cambiamenti cioè si sente unibitiato di sogno di spegnere chi propone una realtà diversa è pensato perché si ha paura di perdere una base sulla quale si mantiene quindi anche se effettivamente intuiscono la positività in un cambiamento però fa proprio paura il cambiamento e allora io penso questo non ho parlato di religione allora io penso questo in realtà sì è vero il cambiamento fa paura poi un po' a tutti lo dico anche come grafico perché io come grafico so benissimo che quando propongo un marchio a qualcuno il primo risultato che ho no no non pensavo questa cosa qui dopo due giorni ah però ripensandoci mi piace perché ci vuole un pochino per digerire le cose nuove soprattutto se proponi delle cose innovative però la differenza secondo me è anche perché è anche il fatto che a parte sì che ci è stata proprio inculcata la paura ma poi mi era venuto in mente mentre tu parlavi ma mi è sfuggito che in pratica è è un atteggiamento sì ecco pure ecco in pratica voi immaginate di essere stato un genitore che ha dato per tutta la vita ai vostri figli un determinato tipo di alimentazione che gli fa malissimo magari il bambino è ammalato magari il bambino è ammalato pure a causa magari di cose sbagliate che ha mangiato facciamo come fai a ammettere con te stesso che hai sbagliato tutto questo tempo è difficilissimo è quello che ti fa a volte essere proprio aggressivo nei confronti di chi ti sì di chi ti vuole operare un cambiamento del genere non è possibile e soprattutto quelli che più sono resistenti sono le brave persone perché sono le persone che non pensano mai che no sono le persone che non penserebbero mai che uno potrebbe fare una cosa cioè che un'industria potrebbe fare una cosa del genere perché non lo farebbero loro cioè dico ma com'è possibile questo non ce l'ha i figli e ai figli che gli dà non glielo dà in Filadelfia per dire sono le brave persone normalmente che hanno più resistenza indicando per brave persone quelle che si sono che si fidano e si affidano al grande fratello sì purtroppo sì a un dio un santo è un atteggiamento ecco perché io vedo nel fare comunità nel fare rete nel fare comunità quasi anche un atteggiamento c'è nel senso far emergere le persone che sentono qualcosa dentro però in realtà hanno proprio paura di esporsi di fare l'houting perché paradossalmente secondo me è il termine appropriato anche in avuto alimentare però in un momento in cui si riesce grazie al nostro network che è la rete ad aggregare creando anche un piccolo nucleo poi diventa poi diventa un pasto nudo e poi magari può attirare l'attenzione di chi magari sente qualcosa e incomincia a vedere un'alternativa però questo è un discorso molto pericoloso perché è rivoluzionario esatto perché si parte dall'initazione ma poi eh sì ma da un lato questa cosa ci fa molto gioco perché se noi facciamo la rivoluzione partendo dalle cose grosse importanti dai massimi sistemi ci ammazzano immediatamente ci schiacciano mentre invece secondo me non ci si sta rendendo conto allora qual è il cioè a parte che non ci si sta rendendo conto che la rivoluzione sta partendo da queste dalle piccole cose ma poi soprattutto eh anche se te ne rendi conto che adesso lo stiamo dicendo davanti alla telecamera magari lo diffondiamo come fai a fermare una cosa del genere non la fermi perché non è il singolo che lo sta facendo e non è neanche io io sono praticamente quella che ha fatto il pasto nudo quella che ha deciso di mettere online il pasto nudo che tra l'altro non dipende più neanche da me perché a parte che ci scrivono tante altre persone ma poi voi sapete che secondo la mentalità della rete cioè secondo come è fatta proprio la rete per come è fatta la rete il pasto nudo potrebbe avere una volta che mi chiudo nel mio possono nascere un milione di mirror del pasto nudo di siti identici al pasto nudo in tutto il mondo quindi non è non sono io non è il pasto nudo non siete voi ma è la rete in pratica non puoi schiacciare una rete di persone non puoi non è che puoi zittire tutti e quindi tornando a noi eh senza talmente no ma talmente che secondo me gli ho rotto le scatole al microfono ho detto basta basta che palla allora quindi in pratica vabbè paradossalmente insomma intanto la legge tutela il peggiore invece del mio ma anche perché non è secondo me la legge come strumento cioè come se fosse un diavolo che ci controlla ma il problema è che ovviamente quando una cosa è molto grossa va così per dire io quando presento un un quando mi è capitato di presentare un logo in un'azienda se chi cioè il mio commettente normalmente non è mai il capo dell'azienda ma è uno dei suoi sottoposti che che al cui il capo gli ha detto fammi fare un logo che mi piace se io presento una cosa troppo particolare lui non la vuole lui non vuole una cosa particolare lui vuole stare tranquillo cioè lui vuole una cosa normale in modo che magari lui non urla il capo non urla al miracolo ma neanche gli dice se è stato un deficiente se non gli è piaciuto quindi praticamente ha fatto no funziona sì la stessa cosa è per la legge perché tutela il peggiore invece che il migliore perché tutela la cosa più tranquillizzante la cosa più che che crea meno problemi ecco non ci crea esatto la cosa meno scomoda cioè non deve essere una cosa scomoda però noi a forza di fare cose comode guardate dove siamo arrivati cioè come stiamo messi quindi il tuo è un invito a discorsi plastici e a pensieri sì o in realtà a creare un nuovo tipo di pensiero unico che sia un pensiero condiviso che poi è la rete sì io in realtà cioè io quando ho fatto la quando ho fatto io ho fatto l'Istituto Europeo di Design quando ho fatto per fare per essere per diventare un grafico e mi sono laureata con una tesi proprio su un nuovo nel 92-93 quindi quando internet stava uscendo in quel momento c'erano i cd i rom erano usciti allora in pratica sulle sui nuovi modi di organizzazione degli scambi intellettuali e del sapere e questa era la cosa che veramente a cui io tenevo più di tutte e ho capito che la rete era la soluzione di tutto era una risorsa importantissima io l'ho fatto col cibo ma si può fare con qualsiasi cosa è un modo proprio un nuovo modo di organizzare gli scambi ma soprattutto anche un nuovo modo di di porsi nei confronti degli altri perché io non sarei cioè il blog non avrebbe nessun senso nessun significato se non ci fossero gli altri blog o se non ci fossero le altre persone che tra di loro per esempio io a capire a sapere tante cose sulle farine lo sapute io inizialmente utilizzavo la Manitoba tu lo sai Gaia perché lei è una delle lettrici del pasto nudo degli albori di cinque anni fa di cinque anni fa sì e poi è venuta una signora che coltivava grani antichi e che mi ha detto guarda che la Manitoba cioè un blog consapevole che la Manitoba e ho detto che ho fatto e non l'ho cioè mi sono resa conto che mi ha mandato dei documenti mi sono resa conto di quello di cui stavamo parlando e ho detto ah no non la uso più la Manitoba e perché perché abbiamo fatto rete e questa è la rete cioè la non contrapposizione noi siamo stati abituati a contrapporci perché ovviamente come si fa adesso non per essere complottisti ma cioè non è perché il complotto che presuppone che qualcuno ha deciso si fa così no si è creata questa situazione probabilmente però comunque in un certo senso è una specie di cioè si è creato un complotto che non deriva dall'alto ma è cioè una cosa che comunque ci penalizza tantissimo cioè il fatto di contrapporci l'uno all'altro ovviamente ci rende più deboli più più facciamo il gioco facciamo il gioco della 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 comodità cioè del potere che è comodo giustamente cioè come come è più facile controllare le persone così ma controllare non nel senso brutto della parola controllare nel senso come se voi aveste un greggio in qualche modo lo dovete infatti io ipotizzo sempre il paragone con animali di allevamento eh sì perché tante volte se ci pensi noi siamo animali di allevamento ci convogliano anche cioè nel tempo libero in realtà facciamo scelte che io le chiamo sciolte perché poi alla fine mi chiedo ma ho veramente deciso io stasera di andare a stordire con la mutica a palla e bere un vino che viene fermentato un po' meno così rimane quel gusto abboccato cioè perché ormai oggi la grande cantina non è più quella che fa la verità la grande cantina è quella che fa un prodotto buono al palato ma non buono al porto eccetera tra l'altro quindi mi chiedo tante scelte sono mie o indotte ecco perché è un punto di partenza sì dobbiamo ricominciare a pensare con la nostra testa e soprattutto dobbiamo assolutamente dimenticarci che l'antipatia verso le altre persone l'antipatia o la diffidenza verso le altre persone io tra l'altro da mia madre a Napoli sono stata abituata a dire se quella persona ti fa del bene stai attenta perché vuol dire che ti vuole fregare in qualche modo questa è la mentalità che ci hanno inculcato anche da noi anche noi sì perché perché poi magari c'è veramente quello che poi che magari la persona un po' più ignorante che poi non si rende conto che ovviamente fa del male prima a se stesso facendo così però dobbiamo uscire da questa mentalità è fondamentale perché anche perché ecco questo è fondamentale anche perché se vogliamo mangiare in determinato modo e vogliamo stare bene dobbiamo comprare dai produttori per comprare dai produttori dobbiamo dobbiamo avere un rapporto con loro di fiducia e per avere un rapporto con loro di fiducia dobbiamo saper discernere cioè a parte sì anche esiste anche l'intuito personale come ti trovi con quel produttore ma anche ovviamente poi se il produttore è serio tu dici voglio venire a vedere il tuo campo lui dice vieni ti stende il tappeto rosso tra l'altro mi dico una dritta per riconoscere il produttore serio quello che quasi sicuramente fa le cose per bene se voi vi mettete a parlare gli fate delle domande e lui praticamente pure se c'è il suo banco che sta vendendo si mette a parlare con voi per tre ore e quelli che vengono dicono aspetta aspetta sto parlando si è appassionato si mette a parlare vi spiega tutto quello è serio se invece è uno un po' scostante o si scoccia e gli fa delle domande normalmente sarà ovviamente pur un fatto di carattere ma normalmente il produttore serio siccome si fa un culo così per farsi si può dire in streaming siccome si fa molta fatica per fare per fare quello che fa perché è molto più difficile coltivare e allevare in modo consapevole lui ve lo vuole spiegare per lo meno questa soddisfazione quindi in questo modo lo riconoscete subito quindi che cosa bisogna fare cioè secondo me una cosa molto importante da fare da portare avanti la disobbedienza alimentare che già alcune persone stanno facendo cioè in pratica che succede che posso dire ecco ci sono il burro per esempio di Malga non si potrebbe prendere perché il burro di Malga non pastorizzato non si può vendere no? ci sono tantissime persone che vanno in Malga e se lo fanno dare il burro no io il burro lo prendo prendo sempre dalla stessa si può fare dalla panna si può autoprodurre si però alla fine poi vi spiego pure questa cosa comunque in pratica e vanno in queste Malga a prendere il burro facendo una disobbedienza alimentare non lo puoi fare legalmente loro pregano il Malgaro ti prego dammi il burro ma non te lo posso dare non te lo posso vendere per legge dammelo lo stesso sotto banco ti prego e lui alla fine gli dico io non dico che bisogna trasgredire la legge per carità mi ne scampi i libri però voi pensate con la vostra testa ecco tecnologico che è di sintesi anche se comunque derivato da funghi si può fare con il caglio animale che però il caglio animale per motivi per vari motivi che poi se volete vi spiego è industriale di animali comunque di allevamento intensivo è molto difficile riuscire ad avere il caglio quello lì di allevamento non estensivo e poi con il caglio vegetale c'è una legge che dice che il pastore non può assolutamente prendere il proprio latte e cagliarlo con il caglio animale del proprio capretto perché è fatto con lo stomaco del capretto il caglio animale ci sono solamente due o tre produttori in Italia che siccome il loro formaggio doveva essere per forza fatto con quel caglio hanno una deroga hanno ottenuto una deroga ma per ottenere questa deroga hanno dovuto spendere un sacco di soldi e hanno dovuto fare i pazzi ma altrimenti che cosa avrebbero ottenuto il formaggio quello che trovate al supermercato qualsiasi ecco i formaggi penso che sono forse l'indice in assoluto più sì più rappresentativo di quella che è la nostra cultura alimentare perché il latte praticamente veniva prodotto un po' dappertutto in Italia e in qualche modo andava conservato altrimenti veniva sprecato e soprattutto era una una grossa risorsa dal punto di vista energetico per esempio il pecorino con lo stagionato il formaggio stagionato veniva portato dal pastore se lo portava dietro quando andava a pascolare le pecore d'inverno oppure quando andava a mietere il grano da molta molta energia quindi è un alimento antichissimo e che è stato stravolto totalmente voi provate per una volta a prendere un formaggio da un pastore invece che da un pastore serio che lo fa con latte crudo il formaggio grazie al cielo si può fare con latte crudo e poi assaggiate quel supermercato e vedete se riuscite ancora a mangiarlo un casaro un casaro si 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 fa la pizza con la no no la mozzarella millesimata e infatti noi domani andiamo a comprarla con latte crudo lui che ne è tantissimo a questa cosa infatti ha decantato ma di di mucca o di bufala di mucca di mucca si molto interessante si 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 infatti mi sa che si sono si sono un'altra volta distrutte questo è molto interessante lui è di Andrea però ha il punto vendita tra anni ma il il ma gli animali pascolano oppure li tiene dentro perché dove voi dovete chiedere quello perché voi dovete chiedere quello se gli animali un minimo di 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 integrazione gli si dà quasi sempre perché d'inverno non è che c'è sta l'erba quindi o gli dai il fieno ma un po' di integrazione per fargli fare il latte e un po' gli danno l'importante è che però vi dovete chiedere che integrazione gli danno che cosa gli dai da mangiare le cose che ti dà da mangiare le produci tu perché normalmente che cosa gli danno a mangiare le mucche il maest la soia o il gemme se è convenzionale ha un piccolo allevamento il padre però lui dovete fare chiedete domandate andate ma lievitazione naturale non significa niente fermentazione fermentazione naturale perché lui ci ha fatto il discorso questo discorso che sta con di ritomare lui toglie un pezzetto e ah sì sì con i fermetti questo è un ottimo metodo di fare il formaggio solo che l'importante è che voi dovete risalire a cosa mangia la mucca che lo fa cioè non è importante non è tanto importante il prodotto sì o comunque la fantasia con cui l'importante è l'origine l'importante è l'origine la materia prima da dove faremo queste domande cioè dovete guardare se le mucche sono felici questo perché se le mucche non sono felici non va bene pure se è una mozzarella più buona del mondo quindi va bene delle fascelle ve le ho parlato dei vimiti eccetera eccetera sì adesso allora l'ultima cosa voglio dire dei paradossi sulla legge alimentare praticamente quest'estate siamo stati in Sardegna e ho visitato un'azienda agricola che prima era in regime biologico dopo adesso non lo è più perché vabbè avevano dei problemi con il mangime dovevano loro danno per forza un'integrazione ai maiali che non è che non va bene per il regime biologico giustamente quindi l'hanno persa quindi infatti io ho comprato quello che non era maiale e il maiale l'ho lasciato là però la cosa interessante che ci hanno raccontato è che praticamente lì in Sardegna girano una cosa che si chiama la peste suina che hanno soprattutto i cinghiali che non è una cosa che si ammalano è una malattia che comunque non è che passa nel latte oppure nella carne ecco sì però qual è il problema anche loro i maiali bradi li devono tenere chiusi in recinti comunque molto molto grandi ma chiusi perché non devono venire a contatto con la fauna del posto ma perché non devono venire a contatto con la fauna del posto non perché no perché in pratica che succede che il cinghiale se gli mischia la peste suina allora non gli succede niente perché i maiali bradi hanno un sistema immunitario forte quindi gli viene e gli passa ma loro li devono tenere chiusi per salvaguardare i maiali che stanno che stanno praticamente che stanno chiusi dentro perché quelli hanno un sistema immunitario distrutto e se gli arriva tramite uno di questi maiali dal macello o da un'altra cosa la peste suina loro quelli muoiono tutti e lì praticamente si distrugge un'industria in pratica loro devono tenere i maiali bradi chiusi per non far ammalare i maiali poveracci che diciamo di allevamento intensivo che è allucinante ecco questi sono i paradossi che noi abbiamo ma come questi ce ne sono un miliardo e se noi queste cose perché succedono perché non le sappiamo non le sa nessuno se noi queste cose le diffondiamo che è quello che sto cercando di fare con il pasto nudo e con l'associazione la gente piano piano esce con la testa fuori dal sacco come diceva mia madre ad esempio per dirvi voi lo sapete cioè ci sono certe cose certi dolci certe cose ormai che si possono fare solo col Philadelphia come si fa il Philadelphia ve lo sapete vi fate lo yogurt in casa qualche volta avete fatto si praticamente prendete lo yogurt lo mettete si lo mettete in una cassa in un telo lo fate colare tutta la notte nel frigorifero il giorno dopo ci avete il Philadelphia per dire cioè dallo yogurt bianco se lo vuoi far venire proprio come il Philadelphia ci mischi pure un po' di panna fresca ma la cosa bella è che poi lo potete personalizzare come vi pare se lo fate colare due giorni in liquido lo potete diciamo diventa più denso ancora più proprio Philadelphia diciamo e vi costa niente lo fate con la materia prima che bollete voi lo aromatizzate come avete voi dolce salato con le erbette come vi pare a voi con la cipolla e non dovete fare niente per farlo perché non c'è nessun lavoro lo fa tutto il frigorifero e vi trovate il siero che lo potete utilizzare in parte pure per il pane per panificare ma anche per i gatti che impazziscono questo siero pare io ancora non gli ho dato due cuccioli e quindi praticamente insomma le cose basta saperle sono delle cose proprio sceme che non ci vuole niente a sapere e tutto è cioè siccome non ce le dicono ce le dobbiamo dire noi questa è la rete se le dico io non serve a niente io le dico a voi voi le dovete dire altre persone in modo che però le capiscono le persone perché chi normalmente chi diffonde queste queste nozioni lo fa in un modo che è difficile da leggere è palloso infatti sul sito cerco sempre di essere molto più possibile leggera perché sì anche perché se no giustamente uno torna che è stato otto ore in ufficio si è problema che si interagge il papiello cioè l'attenzione se ne va invece se è una cosa ma infatti perché le ricette sì ma infatti esatto perché le ricette perché la ricetta è un po' come dire mi metto subito a fare qualche cosa è tramite la ricetta imparo non è che devo studiarmi qualche cosa allora vi quindi volevo annotare un'ultima cosa qua sotto che era che cosa abbiamo detto di più interessante di tutto paradossi della legge sull'alimentazione normalmente legge europea purtroppo però si della legge sull'alimentazione poi dopo magari lo ricosomo adesso lo giro perché vi devo dire altre cose allora questo lo fa Daniele a dire se volete stavo cambiando argomento quindi se volete possiamo fare una piccola pausa facciamo una pausa di 5 minuti sì che vi devo parlare delle mode e delle crociate alimentari e di 5 minuti Grazie a tutti.